ben ritrovati per un nuovo aggiornamento del tempo il domino anticiclonico che ci è tenuto compagnia per tutta la settimana inizia a partire da domani a dare segni di cedimento anche se in italia i primi veri segnali di cambiamento si potranno avvertire solo dalla giornata di sabato per domani invece tempo ancora piuttosto soleggiato al centro sud mentre al nord si avrà una maggiore copertura nuvolosa con la possibilità anche di qualche occasionale fenomeno in abruzzo per domani cielo sereno al mattino ma maggiore copertura dal pomeriggio sera seppur senza fenomeni la ventilazione risulterà ancora debole di direzione variabile il mare calmo o quasi calmo infine un'occhiata le temperature questa notte valori compresi tra 4 e 10 gradi le massime di domani stazionario appena in aumento con valori compresi tra 15 e 19 gradi è tutto per la meteo un saluto da marco